Comunque, perché una coppia dovrebbe scegliere il batticuore? Beh, bella domanda, perché si balla con Jacqueline al matrimonio? Non male? No, fate gli scherzi dai. Diciamo che è una cosa aggiuntiva, dovrebbe scegliere perché per noi è stata una garanzia. Sì, l'abito è importante, è bella la location, però poi il ricordo...